Ah, bella passione. E scusami, sono cazzo, c'è tante ferrici scassi per fare un gruppo di scassoni che si chiama Inus Milis e Coyote. No, bellissima, che si chiamate? E come si faceva? Sono rock, diciamo che quello che è capito, facciarlo più chiaro. Vale, quello che è capito. Qui c'è il qualito Marco, sono con te e lui? No, 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 lui si fa fare un altro volo. Ciao Marco, benvenuto! Ciao Fabrizio, buonasera a tutti. Pregio e difetto di Diego. Pregio e difetto, pregio, beh, come aveva detto, però che sia un ragazzo, deve avere un amico che vuole avere tutti, se in un momento di bisogno sai che su di lui puoi sempre contare. L'unica cosa che però ha difetto è un po' troppo fissare sull'orario. Fiscale in che senso? Fiscale sull'orario, nel senso se ti dai un appuntamento a mezzogiorno, sarevi un minuto dopo, basta, l'hai già perso. L'è perso? Sì, l'è perso. L'è perso? Grazie per la visione!